Pronto l'intervento di deblattizzazione. Molte le segnalazioni dei cittadini per la presenza di Blatt ed anche la richiesta del consigliere di opposizione Alessio Cairone, che chiedeva una deblattizzazione. Sulla questione interviene il Comune, che annuncia che una ditta di Avellino dovrà curare l'intervento di deblattizzazione sul territorio comunale di Battipaglia. L'affidamento è stato fatto con determina dirigenziale a firma dell'ingegnere Carmine Salerno e vedrà nei prossimi giorni la necessaria opera di sanificazione di rete funiaria e caditoie sull'intero circuito cittadino. L'amministrazione della sindaca Cecilia Francese quindi si è subito attivata per completare l'operazione, che nella determina non risulta completata da parte dell'azienda sanitaria Salerno II, detentrice del servizio di sanificazione. L'impegno di spese è pari a 3.050 euro per dare un servizio richiesto da numerosi battipagliesi che lamentavano il proliferare di Blatt in tutte le zone della città nelle scorse settimane.